Buonasera, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, un appuntamento domenicale per gli ultimi aggiornamenti in merito all'emergenza coronavirus, ma non solo, anche con le altre news arrivate nel corso della giornata odierna. Partiamo però dal bollettino di Ramato, proprio in tarda serata dalla regione con gli aggiornamenti in merito ai contagi e anche alla situazione sul coronavirus in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna. Per quanto riguarda la provincia di Rimini si conta un caso in più rispetto alla giornata di ieri, purtroppo però arriva anche il primo decesso all'ospedale infermi, ma i dettagli li andiamo ad ascoltare all'interno di questo servizio. Arriva purtroppo il primo decesso di un paziente positivo al coronavirus all'ospedale infermi di Rimini. Si tratta dell'88enne di San Marino ricoverato dal 25 febbraio scorso nel reparto infettivi. L'uomo presentava una situazione clinica complessa per varie patologie già prima dell'infezione. Le sue condizioni sono precipitate nel pomeriggio. In regione salgono a 285 su 1795 test refertati i casi di positività. Rimane Piacenza, la provincia più colpita, con 174 casi. In provincia di Rimini sono 16, uno in più rispetto a ieri. Si tratta di un uomo di 69 anni ricoverato all'ospedale infermi, le cui condizioni non sono gravi. È in corso l'indagine epidemiologica rispetto ai contatti. 14 residenti in provincia che risultano al momento positivi al coronavirus. 6 sono ricoverati in ospedale in condizioni non gravi, 8 sono al loro domicilio con sintomi lievi. All'ospedale di Rimini sono ricoverati anche un cittadino marchigiano e l'88enne sanmarinese purtroppo deceduto oggi. Sul Titano in totale i positivi sono invece 7, 4 all'ospedale sanmarinese, gli altri al loro domicilio, 76 le persone in quarantena a San Marino. Da segnalare anche il primo caso nella provincia di Forlicesena, a Savignano. Si tratta di un 59enne ricoverato nel reparto infettivi all'ospedale di Forlì. Complessivamente in regione quasi la metà dei contagiati è in isolamento a casa, 24 hanno solo lievi sintomi, 13 pazienti in terapia intensiva in Emilia-Romagna. I decessi, compreso il cittadino sanmarinese, sono 9. Nella nota diffusa dalla regione Emilia-Romagna si ragguaglia anche sui presidi a protezione degli operatori sanitari e per la sicurezza dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie. Infatti è stato effettuato un rafforzamento, serviranno a dividere già all'ingresso i pazienti con possibili sintomi da coronavirus e dagli altri. La protezione civile regionale è infatti predisposto, oltre ai tre già allestiti nel Piacentino, a quello davanti al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Parme, a quello in ingresso all'ospedale Santa Maria di Reggio Emilia, 9 nuovi moduli provvisori per il triage dove poter sottoporre alle persone le prime valutazioni delle condizioni generali e di esposizione prima di accoglierle all'interno dei servizi ospedalieri. Sono 3 nella provincia di Modena, 1 a Imola, 2 nel Parmense, 3 nel Reggiano. In altre strutture ospedaliere, tra le quali anche gli ospedali di Rimini e Riccione, sono già operativi specifici spazi con le medesime funzionalità all'interno delle aree di attesa o di ingresso. Sono anche in corso, ragguaglia la Regione, sopra luoghi per la verifica del posizionamento di ulteriori punti di pre-triage in tutte le rimanenti strutture della Regione, per alcune delle quali, e si cita anche la Romagna, si sta prevedendo una modalità di installazione rapida al crescere del numero dei casi. E tornando ai casi e di oggi appunto alla notizia che ormai in Romagna non ci sono più province prive di contagio. Ieri è arrivata la notizia del primo contagio a Ravenna, oggi sono saliti a 2, mentre nella giornata di oggi è arrivata anche la notizia del primo contagiato in provincia di Forlicesena. In questo caso si tratta della confinante col nostro territorio, città di Savignano sul Rubicone. A dare l'annuncio con un messaggio postato sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco. Andiamo a sentire. Volevo informarvi che è stato individuato a Savignano sul Rubicone il primo caso affetto da coronavirus. È una persona di 59 anni, residente a Savignano, è stato portato al reparto di malattie infettive dell'ospedale di Forlì. Le sue condizioni di salute sono buone e non destano preoccupazioni. L'ASLA e tutto il personale sanitario stanno facendo le indagini e le domande necessarie per capire quali sono stati i contatti che ha avuto questa persona negli ultimi tempi. Comunque è già certo che nell'ultima settimana si era auto-isolato perché affetto da una sindrome che sembrava influenzare inizialmente la casa propria e tutti i parenti sono al momento isolati nelle proprie abitazioni e sottoposti anche loro a domande e analisi per capire l'origine e i contatti avuti. Come sapete e come potete vedere sia le istituzioni che l'ASLA sono sul pezzo. Stiamo facendo di tutto per cercare di evitare a diffondersi di questo virus. Voi come cittadini da parte vostra però mi raccomando attenetevi al decalogo. Se avete sintomi o qualcosa che possa ricondurre la vostra patologia al coronavirus non recatevi presso né i medici di base né il pronto soccorso né l'ospedale Santa Coloma ma chiamate direttamente il 118 o il numero 1500. Mi raccomando è importantissimo per evitare di diffondersi di virus. Sabignano è una città forte e supereremo anche questa fase. Buona domenica a tutti. Ed è stato emanato in serata anche il decreto che era atteso da parte del governo, un governo che ha avvocato a sé le decisioni in merito a questa situazione di emergenza. Già ieri le anticipazioni per quanto riguarda le scuole con la chiusura in Emilia Romagna ma anche nelle altre regioni maggiormente coinvolte come Lombardia e Veneto conferma della chiusura delle scuole quindi fino all'8 di marzo o meglio non si parla di chiusura ma di sospensione e questo appunto ha un significato diverso. Oggi con il decreto apprendiamo che riaprono i luoghi di cultura ma restano chiusi cinema e teatri. Questa appunto era anche una di quelle sollecitazioni che l'Emilia Romagna aveva fatto, quella di tentare anche di riaprire cinema e teatri anche se con determinate modalità. Ma andiamo a leggere nel dettaglio la nota diffusa proprio in una tardissima serata dalla regione. In Emilia Romagna e questo lo sapevamo fino all'8 marzo sospesa l'attività di nidi, scuole e università. Riaprono i luoghi della cultura, musei, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali pur con accessi contingentati. Restano invece chiusi cinema e teatri, per bar e ristoranti, sia alle aperture ma con precauzioni sulle distanze da tenere tra gli avventori e quanto prevede, questo in estrema sintesi, il decreto del governo sulle misure anti-coronavirus. Il provvedimento è stato preso sulla base delle indicazioni del Comitato Scientifico Nazionale e sentite le regioni con l'obiettivo, si spiega, di garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea. Il decreto contiene norme che valgono per i soli comuni delle zone rosse, altre per tutte le tre regioni del nord Italia maggiormente colpite dalla diffusione del virus, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, a cui si aggiungono le province di Pesaro, Eurbino e Savona e altre ancora per l'intero territorio nazionale. Alcune si applicano per la sola provincia di Piacenza a causa della contiguità con l'area dell'Odigiano, il focolaio più attivo nel paese. E poi c'è l'intervento del presidente della regione Stefano Bonaccini che dice si persegue l'obiettivo di dare un'applicazione omogenea delle misure sull'intero territorio nazionale tenendo presente il grado di diffusione del virus nelle singole aree con il contributo decisivo di tutta la comunità scientifica. Misure necessarie, dice Bonaccini, per gestire la situazione sanitaria e poterlo fare con senso di responsabilità, lucidità e sobrietà perché adesso servono anche misure economiche per tutelare imprese e lavoro nei diversi comparti più colpiti ed esposti a partire dal turismo, dalla cultura e dai servizi. Ne parleremo, dice il presidente della regione, mercoledì a Roma col presidente Conte insieme alle altre regioni e con tutte le parti sociali. Non possiamo permettere che i nostri imprenditori e i nostri lavoratori paghino il prezzo di questa vicenda senza adeguati ammortizzatori e su questo l'Europa, dice ancora Bonaccini, ci deve ascoltare perché sia chiaro, il problema è comune e servono fondi straordinari. Su questo il paese si è unito e la politica non si divida. Interviene anche l'assessore alla salute Raffaele Donini che dice mi pare che il lavoro che abbiamo fatto assieme al governo e soprattutto alle regioni Lombardia e Veneto sia stato positivo, soprattutto necessario. Un lavoro finalizzato a garantire da un lato la sicurezza sanitaria delle persone e dall'altro la possibilità per le nostre comunità di mantenere una socialità necessaria, come dimostra la riapertura, seppur parziale, dei luoghi della cultura. E lo abbiamo fatto, dice ancora Donini, facendo anzitutto parlare la scienza, seguendo le indicazioni che esperti e professionisti della sanità ci stanno dando e ci hanno dato, senza guardare ad altro che non fosse la tutela della salute pubblica e delle persone. Come detto, si conferma, e questo si sa già dalla giornata di ieri, dal pomeriggio di ieri, la sospensione per quanto riguarda i servizi educativi di ogni ordine grado, comprese le università, sospensione che vuol dire che ad esempio sarà possibile l'accesso del personale ATA all'interno degli istituti scolastici. Restando in tema di coronavirus, si cerca in qualche modo di reagire. Qualche settimana fa i sindaci della provincia di Rimini, il presidente della provincia, hanno lanciato un hashtag, la Romagna non si ferma. E adesso questo che è un appello, un motto, un hashtag appunto come si usa a dire adesso, diventa anche qualcosa di più. Infatti, sulle pagine dei vari comuni sono state pubblicate e stanno diventando virali alcune video realizzati proprio per ricordare che la riviera non si ferma. Un invito appunto anche a tutti gli ospiti che vorrebbero o sarebbero venuti in riviera a non continuare a venire perché da noi tutto proseguirà così come è sempre stato. Ci sono video pubblicati relativi alla pagina di Rimini, relativi anche al comune di Riccione, a quello di Cattolica e anche a quello di Misano. Per il momento sono queste le quattro realtà della nostra riviera che si sono attivate per lanciare un messaggio chiaro a tutti gli ospiti e a tutti i cittadini. Noi non ci fermiamo, bisogna piano piano tornare alla normalità. In attesa di capire quali saranno anche gli impatti sul turismo e sull'indotto del territorio, di quello che sta accadendo con questa emergenza, noi abbandoniamo anche il tema del coronavirus per affrontare invece la cronaca perché purtroppo nella giornata di oggi ce n'è parecchia da affrontare. Parliamo innanzitutto di un incidente, un tragico incidente avvenuto nel primissimo pomeriggio in via Melucci a Rimini. Purtroppo non ce l'ha fatta, il motociclista vittima di questo incidente è avvenuto intorno alle 14, un 56enne a bordo di una moto Kawasaki stava percorrendo la via in direzione Riccione quando all'altezza della rotatoria di via Rosmini di Riva Azzurra per causa in via d'accertamento ha perso il controllo del mezzo. Violento l'impatto con il suolo, con il motociclista che è finito tra i cespugli che ci sono a bordo strada, ha perso anche il casco. Quando i sanitari sono accorsi sul posto si sono subito resi conto della gravità delle ferite e hanno allertato l'elisoccorso per il trasporto al Bufalini di Cesena dove l'uomo è stato trasferito dopo essere stato stabilizzato all'ospedale di Rimini. Purtroppo, pur soccorso prontamente, l'uomo ha ispirato poco dopo il trasporto in ospedale. Non purtroppo però l'unico incidente avvenuto in giornata. Il secondo sembra più una bravata anche se ancora ci sono degli accertamenti in corsa. Potete trovare le immagini adere press anche sul nostro sito newsrimini.it con i rilievi da parte della polizia. Ma cos'è accaduto? Fuori da un'auto in corsa, 24enne grave. Siamo a San Martino in Riparotta. Si vanno delineando i contorni di quanto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Viserbamonte. Poco prima delle 14 un ragazzo sanmarinese di 24 anni è stato trovato a bordo strada in gravi condizioni. Sembra che viaggiasse come passeggero su un'auto targata RSM Repubblica di San Marino ed improvviso sarebbe finito fuori dal mezzo in corsa che percorreva via San Martino in Riparotta all'altezza del numero civico 11. L'auto, risultata di sua proprietà, è poi fuggita. La prima ipotesi che potesse essere stato spinto fuori lascia spazio invece alla possibilità che si tratti di una bravata tra amici finita male. Il 24enne purtroppo ha battuto violentemente sull'asfalto. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Lì è stato operato. La prognosi per lui è riservata e delle indagini si sta occupando la polizia. Questo per quanto riguarda gli incidenti avvenuti nel primo pomeriggio di oggi, ma già dalla mattina la cronaca la faceva da padrone sul nostro territorio. Infatti nel cuore della notte c'è stato un diverbio finito male in piazza Cavour. Siamo a Rimini. È finito in ospedale a Cesena con un trauma cranico, un neo 18enne che la notte scorsa si è reso protagonista di un'aggressione in piazza Cavour. Erano circa le 2.30 quando è scoppiato un diverbio tra due giovani che ha reso necessario l'intervento della polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato un 25enne riminese, studente universitario, seduto sugli scalini della piazza col volto insanguinato. Ai poliziotti è raccontato di essere stato raggiunto al volto da un pugno sferrato da un ragazzo che in mano aveva una cassa audio e di essere caduto dagli scalini. Nella botta si è rotto due denti anteriori. È riuscito a dare una descrizione del ragazzo che lo aveva colpito dichiarando che era fuggito verso piazzetta San Martino. 4 dei 6 agenti intervenuti a quel punto sono corsi in quella direzione quando il giovane li ha visti, ha cominciato a correre nuovamente verso piazza Cavour dove erano rimasti altri due agenti. A quel punto, temendo di essere preso, ha saltato gli scalini del palazzo comunale, cadendo però a terra e battendo violentemente la testa. Il ragazzo, un riminese che risiede nel campo nomadi, era arrivato in piazza con un gruppo di amici per festeggiare 18 anni che compie proprio oggi e aveva alzato molto il gomito. Alcuni testimoni hanno raccontato che aveva cominciato ad essere molesto con altri avventuri dei locali della piazza. Resta poi da capire il motivo per cui è scattato il diverbio e perché abbia riversato la sua violenza verso il 25enne. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, l'uomo è stato portato, come detto, alla Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. L'ultima notizia che vi diamo in questo appuntamento della domenica con l'informazione riguarda invece la politica, perché è arrivato nella notte. Una notizia che riguarda Nicola Marcello. Nicola Marcello, esponente di Forza Italia, ha deciso di dimettersi dal ruolo di vice commissario regionale del partito, una scelta maturata già da tempo, dice, dopo le politiche del 2018 e non più procrastinabile. Proprio Marcello, alle recenti regionali, con 2413 preferenze, è stato il candidato più votato degli azzurri in tutta l'Emilia Romagna. Il mio percorso purtroppo all'interno di questa Forza Italia, dice, finisce oggi, pur consapevole di lasciare persone speciali di pregevole valore umano. Questo scrive nella lettera che ha inviato nottetempo al commissario regionale Adriano Paroli. Spero, conclude Marcello, che questa mia scelta possa servire da stimolo a che Forza Italia torni a crescere in termini di voti, valori e di rappresentanza nelle istituzioni e nella società. E con questa notizia noi chiudiamo questa edizione del telegiornale, la chiudiamo ricordando l'aggiornamento col quale abbiamo aperto questa edizione, vale a dire quello dei contagi da coronavirus, sono 16 in provincia di Rimini, oggi se ne è aggiunto uno, si tratta di un 69enne che è ricoverato in buone condizioni all'ospedale infermi, purtroppo però è notizia del tardo pomeriggio, è avvenuto anche un decesso, in qualche modo collegato al coronavirus, sempre all'ospedale infermi, si tratta di un paziente 88enne di San Marino ricoverato negli infettivi, nel reparto infettivi, dallo scorso 25 febbraio l'uomo presentava anche numerose patologie pregresse. E noi siamo arrivati in conclusione, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video,